Una volta potevamo dire che in Italia la comunicazione era un mondo diviso in due, tra Mediaset e il servizio pubblico della RAI. Oggi quel mondo non esiste più. Prima di tutto a essere privatizzati siamo noi quando ci serviamo di Internet. Google, Facebook, Instagram accumulano, elaborano e usano i nostri dati personali per vendere pubblicità o venderci come elettori o clienti. E ciò avviene mentre passiamo sempre meno tempo davanti a un televisore. Abbiamo chiesto i dati allo Studio Frasi di Milano. In 5 anni, dal 2013 al 2018, la prima serata della nostra televisione, quella che va dalle 20.30 alle 23, la più importante per gli investimenti pubblicitari, ha perso 2 milioni e mezzo di spettatori. Gli editori, perciò, parlano sempre meno di quanti spettatori guardano un programma o un canale e preferiscono parlare di share, ovvero della quota percentuale sugli ascolti totali. Così Mediaset può dire di aver tenuto in questi 5 anni. Lo share dei suoi canali è sceso solo dell'1,6% in prima serata. Già, ma di individui in ascolto Mediaset ne ha persi 1 milione e 200 mila. Le tre reti generaliste della RAI, RAI1, RAI2 e RAI3, da parte loro, hanno perso solo il 3% di quota di ascolto, ma ben il 18% di ascolti effettivi, pari a 1 milione e 600 mila persone. La RAI parla di spostamento dell'abitudine di consumo degli utenti verso piattaforme mobili. Auditel corre in soccorso degli editori televisivi. Da dicembre rileva gli ascolti del consumo anche su cellulari, tablet e personal computer. I dati ci sono, ma non sono pubblici per divergenze tra gli editori. Chi è meno presente online si oppone alla loro diffusione. In Italia Confindustria Radio TV conta 421 canali gratuiti e a pagamento, ma la stragrande maggioranza di essi realizza ascolti dello 0, qualcosa. Alla faccia della concorrenza, RAI e Mediaset nel 2018 hanno una quota vicino al 70% in prima serata. Mediaset, con solo il 31% di share nel 2018, raccoglie quasi il 60% degli spot nazionali e ha ben 17 canali gratuiti e 9 a pagamento. La RAI raccoglie il 18,6% della pubblicità e ha ben 21 canali digitali. Ma la RAI non può fare concorrenza a Mediaset perché ha un tetto la pubblicità. In qualsiasi altro paese si direbbe che Mediaset ha una posizione dominante sul mercato, incompatibile con la concorrenza. In Italia l'Agicom, per non vedere la posizione dominante di Mediaset, ha deciso che le risorse pubblicitarie della RAI si sommano al canone, che non è contendibile sul mercato. La concentrazione ha generato povertà di risorse per l'intera industria audiovisiva nazionale, insieme ai prezzi più bassi d'Europa, sia degli spot che del canone. Pensate che il nostro mercato pubblicitario vale 8 miliardi di euro rispetto ai 25 della Gran Bretagna, ai 19 della Germania e ai 12 miliardi della Francia. Questa concentrazione produce scarsa innovazione. Si pensi alle interminabili prime serate televisive. Il loro obiettivo è risparmiare, cancellando le seconde serate, le uniche dove, una volta, si poteva azzardare la sperimentazione. Un quasi monopolio di Mediaset della pubblicità e, dopo l'accordo tra Sky e Mediaset, un quasi monopolio di Sky nell'offerta legale di contenuti a pagamento. E la RAI è un elefante morente intrappolato tra i due monopoli, con sempre più risorse impegnate nella sopravvivenza dei suoi dipendenti e sempre meno risorse per programmi e innovazioni. Sapete come pensano di venirne fuori? Testuale, comprendendo i propri clienti, i loro percorsi mediatici e le basi analitiche per ottimizzare la profilazione e la valorizzazione del target. Traduzione, vogliono rilevare, accumulare e utilizzare i nostri dati personali per costruire contenuti e servizi personalizzati. Scusate, ci arrabbiamo quando lo fa Google e lo dobbiamo accettare dal servizio pubblico?